Perché siamo qua? Per divertirci, per farci vedere, per affrontare una sfida tosta, no? Ok. Sono Luca, ho 30 anni, oltre a suonare con i Silent Project, faccio l'artista di strada con Simo e lavoro in banca e saluto i miei colleghi. Io sono entrato personalmente da esterno, serviva un cantante e mi hanno chiamato. Mi sono piaciuto. Nulla da dire. Grida, fa quello che deve fare. Cosa posso dire, essendo che sono qua da un mesetto? Però una cosa posso dire, che sono in stanza con Luca o Russa come un trattore. Ma io ogni tanto mi sento un po' in conflitto, più che in conflitto in competizione con Simone, perché non te l'aspettavi.